Con mia moglie, signor Commissario. Molto bene. È una semplice formalità, non è vero, signor Commissario? Ah, no, non è una semplice formalità. Questo è un vero e proprio interrogatorio. E siccome l'ho inciso su un astro magnetico, lei non potrà più smentire quello che ha detto. E io non ho nulla da smentire, signor Commissario, perché ho detto tutta la verità. Oh, se lei ha detto tutta la verità, lo saprò molto presto, perché io farò delle serie indagini sul suo conto. Delle serie indagini, signor Commissario? Faccia pure ciò che vuole. Io non ho nulla da temere. Posso andare ora, signor Commissario? Ma vada pure, Comendatore. I miei rispetti, signor Commissario. Arrivederlo. Cosa c'è? Io sono entrato nell'armadio. Mi sono sbagliato. Può succedere, non è vero, signor Commissario? Sì, sì, specialmente che è molto emozionato. Mi informa dove è l'uscita, signor Commissario? L'uscita è là.